salve a tutti sono mister nottonetor e adesso devo aspettare che vinci le missioni intanto prepariamoci per andare a fare il grande assalto ma è quasi alla fine questa non serve questa neanche cecchino guarda qua il munizio dietro lo stesso questo munizioni lì munizio a mirini allora quello perforanti un po' di quelli normali metti che non bastano non mi so io tolone ma non me lo porto anche che c'è un mirino no non 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 è solito, mi riva Vabbè, faccio così Adesso... No Adesso quello di struirlo Non serve l'autore Ahah, non si può attaccare Vabbè, lo stesso dai Cioè, buttiamo dietro tutto lo stesso Tanto non pesano niente Oltre il cecchino ha portato di mano Questo ha portato... Oddio caro Ok, questo ha portato di mano Un'inizione del cecchino Un'altra ventina, si Un'inizione del cecchino Un'inizione del fucile a pompa le ho prese Non poche però, vabbè Ok Questo non ce lo possiamo dimenticare Questo non ce lo possiamo dimenticare Dov'è il mio carciere graus? Ah, ma che lo qua Quartier generale in linea Quartier generale in linea Perché si sono interrotte le comunicazioni A causa dell'emissione Quando se ne verifica una i disturbi sono troppo forti Ok Bene, ascoltami L'operazione Fairway passerà sotto il comando USS Il maggiore del chiare ve li? Sì Bene Ora è lui l'ufficiale comandante Digli di stare pronto Presto sarà contattato dai suoi superiori Ricevuto Cioè adesso Per cui Maggiore Mi ricevi? Sono il maggiore Dektyarev Ti sento Bene Da questo momento sei incaricato di portare a termine l'operazione Fairway Kowalski e la squadra Stingray Ti assisteranno Qual è la situazione? Sono riuscito a recuperare dei documenti sugli esperimenti condotti nella zona Inoltre sono stato contattato da uno stalker che ha visitato la centrale Si chiama Strelok e si è offerto di cooperare con noi Ricevuto, accetta la sua offerta Hai scoperto che cosa ha fatto precipitare gli elicotteri? Sì Ho i dati E anche le informazioni di Strelok lo confermano Gli elicotteri sono incappati in alcune anomalie dopo che un'emissione ha modificato la posizione di queste ultime La mappa delle anomalie assegnata ai piloti si è rivelata inutile Bene, questo vuol dire che abbiamo tempo fino alla prossima emissione Vi preleveremo alla posizione B-28 Anche lo stalker E verrà anche la squadra Stingray Gli elicotteri sono già in volo Passo e chiudo Sì Sentite le novità ragazzi Restiamo uniti e proteggiamo lo stalker mentre ci spostiamo Ci sono domande? O che prepariamoci? Per qualche cosa sono sicuro Vabbè Razzino posso dirti una cosa? Tch 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 la diungo ormai l'ho passata custode di segreti ma non mi serve per il mitra ciao ok depositiamo e andiamo ci muoviamo adesso missione finale va verso il squadra ma ci muoviamo rumore di elicottero bene 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 sta arrivando ottimo ok siamo pronti ora guarda un po' quei figli di puttana ce l'hanno fatta davvero avevi ragione Strylock Zoffy dove? vediamoci sulla destra non guarda che c'è la fretta salita non guarda un po' ok qua dovrebbe essere pieno non guarda un po' ci sono una decina di zombie nell'edificio ok ok dai 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 piantala madonna che pezzi sono? non guarda un po' non guarda un po' mi pare non guarda un po' non guarda un po' non guarda un po' è vero ora TRIVUGA! Atravesso l'arco! Adesso inizio la parte veramente seria, dove è piena 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 di nemici. Dai! Tutta la calma del mondo, non lo sai? È venuto tutto il giorno. Dai! Abbiamo ordine di decollare in caso di attacco. Credete di darvi una mossa. Ricevuto, fra poco saremo lì. Occhi aperti ed eseguire gli ordini. Siamo molto vicini al punto di evacuazione. Andiamo! Non c'è tempo, controllate le armi e fuoco a volontà! Ok. Quindi, la volta che ce n'è, ci vediamo! Faccio! Voi! L'arco a volontà! Aia! Allora, andiamo avanti Come Zulu individuato Zulu mi ferà Il che era quello là Adesso semplicemente dobbiamo entrare in una zona di controllo mentale Che cosa è stato? Non fermiamoci, muovetevi È qui Via Ok, forza C'è l'edizione da dopo Maggiore Dektyarev, un nemico non identificato ci sta bersagliando, non resisteremo ancora a lungo Percivalo! Ahi, elicotteri, via, via! Boom, headshot! Ora! Non è rimasto? Oh, cazzo, ora, ora! Ok, jump, saltiamo! 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 Ok, 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 saltiamo! Ok! Ok, saltiamo! 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 io sono riusciti uccidere 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 ok abbiamo finito ma cosa stendere ulteriore tu l'agir forza sull'elicotter c il video di oggi finisce a po lascia mi piace, commentate e al prossimo video ciao